e buonasera a tutte e tutti siamo di nuovo qui al bandefam e questa sera presentiamo una una pillola una pillola di erbacce le abbiamo chiamate così perché io cioè viola lo moro incontrerò laura marzi che è un insegnante è una critica letteraria collabora con il manifesto e il tascabile fa parte di letterate magazine e soprattutto per questa serata perché a noi interessa questo questa sera è anche tra le nella redazione di erbacce cos'è erbacce lo scopriremo in questo incontro questo è un incontro il quesito sottotitolo è incursioni di forma di vite resistente ai dei serbanti spiegheremo il perché e spiegheremo a partire da un libro che si chiama buyer contro asperina edito derive a prodi uscito quest'anno e di seguito ci sarà un animazione una video animazione fatta da piera bosotti che tiene una rubrica una rubrica animata e chiamata il muro della bicocca e l'animazione si chiama quelle che quindi niente non ci resta quindi che iniziare questa presentazione buona presentazione allora eccoci qui buonasera buonasera allora sono qui con laura marzi che ho introdotto poco fa ci ritroviamo laura questo io e laura siamo delle come dire delle costanti del bande fam una coppia rodata una coppia rodatissima e speriamo anche in questa circostanza oltremodo particolare e noi facciamo dei dialoghi e questo dialogo di questa sera partiamo da questa citazione che mi sembra particolarmente interessante per entrare nell'argomento nel libro curato dalla redazione di erbacce che si chiama appunto buyer contro aspirina c'è una citazione all'inizio fondamentale secondo me secondo noi la citazione di vandana sciva e la citazione è questa l'estinzione è l'unico l'unica modalità con cui il patriarcato affronta le cose vive e libere allora partiamo da qui laura sì beh effettivamente come rivista aspirina eravamo vive bene siamo tuttora fortunatamente ed eravamo eravamo libere ed effettivamente il patriarcato una forma decisamente potente e mostruosa quindi nella forma della eh fusione tra Bayer e Monsanto ci ha attaccato eh imponendoci o almeno cercando di imporre alla rivista aspirina eh l'estinzione ehm la rivista aspirina è una rivista che forse ha un nome familiare per voi non soltanto perché appunto il nome del del farmaco della Bayer ma perché è una rivista che è una rivista di satira femminista che è nata a Milano negli anni ottanta ed era una rivista cartacea ehm ed era una rivista che è nata in quel momento eh trovate anche la storia in nel libro appunto ehm che introducevi che abbiamo pubblicato con Derive a Prodi e nasce in quel momento perché eh la le redattrici di allora iniziarono a pensare che il femminismo che a quel tempo era molto teorico a differenza di adesso ehm quindi questa eh questa iper teorizzazione del femminismo questo questo eccesso di sapere necessitava di un po' di ironia eh quindi era necessario iniziare a prendersi un po' in giro e quindi nasce la rivista aspirina e insomma inutile sottolineare quanto sia interessante l'ironia nel contesto del femminismo quanto sia necessaria anche adesso che non teorizziamo più molto eh ogni tanto questo senso dell'ironia diciamo eh sì esatto si corre questo rischio a quanto pare e poi nel 2013 però aspirina ehm diventa online diventa online e eh in realtà la cosa che mi piace mi piace ricordare di aspirina online era non soltanto la bellezza della rivista quindi la bellezza dei contenuti dei testi eh dei fumetti dei disegni quindi di Pat Carra di Margherita Giacobino di Piera Bosotti e di tante che hanno collaborato negli anni con aspirina cartacea ma poi quando eh entra quando va sul web aspirina diventa una rivista online appunto non soltanto bellissima come lo era sul cartaceo ma particolarmente a me colpiva tantissimo la sua la sua estetica proprio come rivista online questo grazie sicuramente a delle redattrici che si sono occupate delle professionisti dell'informatica eh come Loretta Borrelli, Manuela De Falco, Livia Le Petit che insomma hanno messo il loro sapere informatico per trasformare quella rivista online in qualcosa che era un piacere proprio da scorrere succede anche un felice incontro intergenerazionale se possiamo dire uno dei rari felici incontri intergenerazionali però aspirina almeno per me è stata una grandissima testimonianza della possibilità no di incontri fra femminismi di generazioni diverse. Sì sì infatti io devo dire che per esempio in questo periodo in realtà già da quando c'è stata la insomma la pandemia iniziata lo dicevo appunto con la redazione l'incontro di redazione che noi facciamo spesso online con loro per me è un piacere mentre ci sono tanti incontri online che ultimamente possono essere anche un peso quello con loro è sempre un piacere un incontro nutriente. E appunto nel 2017 arriva alla redazione di Aspirina e è tutto vero quello che vi sto dicendo arriva una una lettera una diffida da parte di Bayer che diffida Aspirina dal continuare a chiamarsi in quel modo e dall'avere un dominio su internet con quel nome. In effetti era interessante il fatto che ci eravamo rese conto che quando si digitava Aspirina molto spesso insieme a volte prima del farmaco compariva la nostra rivista e comunque quando arriva la diffida da Bayer insomma a volte un po' ridevamo ma per lo più eravamo terrorizzati. Si trema un po' sicuramente hanno tremato loro incredibile ma vero? Sì questa cosa è incredibile perché comunque in quel momento proprio in quel momento Bayer si stava fondendo con Monsanto quindi le due multinazionali più grandi del mondo che ci tengo a dire si stavano fondendo in quel momento perché fino ad allora l'antitrust lo aveva impedito e invece Donald Trump aveva permesso che questo accadesse quindi in quel momento la fusione aveva fatto sì che i loro appunto occhi inquietanti si volgessero verso la redazione di Aspirina intimando che come ripeto noi lasciassimo il nome e il dominio. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che comunque noi avevamo registrato il marchio per l'editoria. Ci tengo a dire che comunque avevamo registrato l'avete scritto a Bayer comunque noi ci teniamo a sottolineare. Sì perché se ci pensi quello in una certa ottica era come se ci mettesse dalla parte no noi avevamo ragione e infatti questa è una grande è una delle cose che poi può generare la satira. Cioè lì c'era un'ingiustizia reale, un'ingiustizia che non era data soltanto dalle norme, dalla mostruosità del gigante contro una redazione di una rivista femminista. È che il marchio era registrato. Solo che come facevamo dopo appunto varie riflessioni come avremmo mai potuto fare a combattere una battaglia legale noi che facciamo da sempre per Aspirina. Io da quando ci sono dentro e loro da quando l'hanno fondata lavoro gratuito. Come avremmo mai potuto in qualche modo fronteggiare dal punto di vista legale gli avvocati di Bayer? No. E quindi abbiamo deciso di rifiutare la loro offerta veramente di pochi spiccioli perché questa offerta ci ha permesso di raccontare questa storia e di far nascere questo libro. Cioè in un certo senso la possibilità di... è stata una possibilità a suo modo generativa perché è nato un libro ed è nata un'altra rivista sulle ceneri ma non possiamo dire ceneri perché non è morto niente. Probabilmente le uniche cose che sono morte sono le persone diciamo con gli effetti del glifosfato di Monsanto inutilmente curate da Bayer. Però quello che è vero è che da questa situazione ne è nata un'altra. Infatti un pochino ti chiederei di raccontare cosa è successo poi, cos'è Erbaccio, cos'è Erbaccio adesso, qual è stata la sua forma resistente? Beh in realtà proprio per continuare c'è stato un processo che ovviamente ha visto coinvolte tutte noi delle redazioni in particolare le donne che hanno fondato Aspirina, Pascarra, Piera, Margherita ma tutte noi su che cosa volevamo fare. In realtà noi abbiamo all'inizio ci siamo semplicemente detto vogliamo continuare a raccontare. Il fatto è che poi questo libro è stato concluso alla fine dell'anno scorso e in realtà è passato un anno da quando esiste Erbaccio e Erbaccio è una rivista online che voi trovate sul sito www.erbaccio.org ed è una rivista che da allora ha fiorito in un modo che ci stupisce tutte le volte, cioè noi abbiamo scelto questo nome Erbaccio perché abbiamo resistito all'attacco di Bayer Monsanto, abbiamo resistito a nostro modo, come resistono le Erbacce, cioè le Erbacce resistono anche nei luoghi che sono più difficili, nei luoghi che sono meno accoglienti e questo è stato come dire l'inizio della rivista. Adesso noi siamo in quella fase della fioritura. Se voi ci pensate tante volte vediamo dei fiori pazzeschi e sono tutte Erbacce e anche noi stiamo facendo. Io sono, non lo dico perché faccio parte della redazione, ma per esempio oggi, proprio questo pomeriggio è uscita un'intervista di Pat Carra, Gabi Weber. Gabi Weber è una giornalista e documentarista tedesca che noi abbiamo conosciuto perché lei si è occupata a lungo della fusione Bayer Monsanto e lei si è occupata anche del rapporto tra nazismo e Sud America. Di recente lei ha vinto una causa perché venissero desecretati i documenti che riguardano il caso Eichmann. Eichmann è uno dei nazisti, è stato un caso molto conosciuto perché nel 62 si dice che il Mossad lo abbia catturato. Questo per dirvi, no? Senza Erbacce non avremmo mai conosciuto Gabi Weber. Certo. E credo anche che questa qualità, come dire, resistente ma al tempo stesso di fioritura, no? Di possibilità di fioritura potrebbe essere anche, diciamo, una delle questioni proprio più semanticamente interessanti del femminismo stesso. Cioè una postura che non è solo quella della resistenza ma è quella della creatività. E questa cosa qui della creatività mi piacerebbe un po' chiederti e anche esplorare insieme perché in questa rivista la creatività ha forme diverse, no? Ha delle forme scritte, ha delle interviste, come dicevi, e poi ha delle videoanimazioni. Quindi come si stengono insieme questi registri creativi insieme, questi registri creativi diversi? Ma questa è una cifra che aveva già Aspirina, che quindi in qualche modo io ho già trovato nel momento in cui ho iniziato a scrivere per Aspirina e che è rimasto in Erbacce. Cioè ogni testo in Erbacce, così come era in Aspirina, è sempre accompagnato da un disegno, da un'illustrazione e esistono poi all'interno di Erbacce, come era con Aspirina, anche soltanto appunto dei video, no? Come quello di Piero, il muro della Bicocca, ma anche dei disegni, ma anche delle strisce. Quindi questa varietà, quindi questa unione che viene naturale, fa parte proprio della cifra della rivista tra vignettiste, umoriste, scrittrici. Sì, è la cifra di Erbacce ed è una cosa che secondo me è anche particolarmente buona per le lettrici e i lettori, perché è un godimento. Nel senso che, per esempio, nell'intervista che vi dicevo oggi, poi i ritratti di Dalia Del Bue, che ha fatto due ritratti, uno di Anna Arendt, perché l'intervista si chiama La banalità del potere, e una di Gabi Weber. È bellissima, no? Bellissima. È bellissima. Bellissima, la guardavo prima, impressionato. Prima hai detto la possibilità di godere di una rivista così, no? Allora, qui io ti chiederei, anche riferendomi a uno dei luoghi, uno dei tanti luoghi in cui io e te ci siamo incontrate, Laura, che era un convegno della Società Italiana delle Letterate, due anni fa, mi sembra, sulla comicità. E io lì ho ascoltato un tuo intervento insieme a Pat Carra, giusto appunto, ed era tutto un seminario che aveva come tema centrale quello della comicità e della possibilità di ridere, no? E ancora qui, ancora una volta, ti chiedo, da quel convegno è nato, tra l'altro, un libro che si chiama Le Comiche, edito Iacobelli. E qui ti chiedo una cosa, anche, diciamo, inoltrandomi in quello di cui ti occupi poi più tu, specificamente dentro Herbaccia. Come si fa a ridere di tutto? Si può ridere di tutto? Ma, ora di tutto, penso che per riuscire a ridere di tutto bisogna veramente avere un essere dei mistici, o delle mistiche, ma di grosso calibro. Abbiamo una bella tradizione di mistiche, va detto. Sì, non si associa mai alle risate, invece credo che ci sia una grande componente. Si può ridere di tutto. Per esempio, appunto, tu citi il convegno della SIL sulle comiche e Pat e io decidemmo di intitolare il nostro intervento L'arte di non piangere. Quindi, il fatto di, secondo me, il punto è questo. Sicuramente la satira, per quel poco che io posso testimoniare, nasce da, come dicevo prima, da un'ingiustizia reale o da una sofferenza reale, nasce da quella spinta che tu hai a non voler soccombere, davvero la resistenza. Per cui, alla fine, cioè, riesci a porre un distacco e su quel distacco costruisci un sorriso, una risata, un'analisi, no? E alla fine è come se fosse anche una grandissima ricerca di libertà, eh? Cioè, nel momento in cui ti senti oppressa da un'ingiustizia o da una sofferenza, cercare l'umorismo e cercare la libertà e cercare di dire, ancora sono viva. Già. E ritornando un attimo al libro, prima di chiudere a modo nostro, ritornando un attimo al libro, a proposito di quello che dicevi, in fondo, quello che è capitato alla vostra redazione è una cosa estremamente comica. Cioè, una piccola rivista indipendente, femminista, nata in seno a una parte del femminismo radicale italiano che decide di fare una rivista che poi evolve, eccetera, che ha, diciamo, come dire, quello che potremmo dire, un pubblico ristretto e molto specifico e a un certo punto si vede, diciamo, arrivare nella cassetta della posta una lettera della Bayer. Cioè, una cosa talmente tanto impensabile a diventare quasi l'inizio di una sceneggiatura di un film francese comico, non lo so. Sì, ma infatti, allora, questo viene proprio raccontato nel libro, viene proprio detto, fin dall'inizio viene raccontato quando arriva questa mail, la reazione di tutte noi, con Pat, che rischia di essere veramente investita e cose varie. C'è chi diceva, sottraiamoci, sottraiamoci, la famosa sottrazione femminista. Ma c'è la gamba di Asca, perché qua finiamo malissimo. Sì, c'è ed ha un aspetto comico, devo dire che in questo momento specifico, quindi proprio con la pratica di erbacce che continua, ha anche avuto un aspetto di una fertilità pazzesca, perché comunque ovviamente questa relazione con, cioè questa esperienza con Bayer Monsanto ha dato un'impronta ecofeminista molto forte alla rivista, a erbacce. E quindi noi, per esempio, abbiamo dei contributi anche sulla questione del bergamasco, delle interviste, abbiamo degli approfondimenti fatti da, non so, Matteo Gaddi, quindi un ricercatore della Fiam CGL, la Fondazione Sabatini, sulla situazione delle industrie a Bergamo, un'intervista a Francesca Nava, che si è occupata anche lei della situazione di Bergamo, e quindi tutto questo legame che c'è tra il capitalismo e l'inquinamento in qualche modo, quindi questa produttività mortifera. Ed è qualcosa che è un taglio, un interesse, che già c'era in aspirina, ma che ovviamente è diventato molto importante con erbacce, e sono le persone che si occupano di questo che ne vogliono scrivere su erbacce. Perfetto, perfetto. Quindi, in un certo senso, grazie che ci fate così tanto male, così possiamo reagire meglio. E scherzo, ovviamente. Giusto, giusto, perché l'abbiamo nominato, io direi che forse potremmo anche leggere un pezzetto tratto da Erbacce, dalla rivista, perché, come dire, mai potrebbe essere più attuale questo legame fra capitalismo e ecofemminismo in un momento di piena pandemia mondiale. E quindi prendiamo questi telefoni, così un po' facendo questa scena. Ci piaceva leggervi, tratto appunto da una delle rubriche che io devo dire più amo, così proprio spassionatamente, di Erbacce, che è quella delle sofistiche. Le sofistiche sono appunto Laura Marzi e Francesca Maffioli. Allora, sì, è appunto una rubrica che è iniziata anni fa, quindi... Beh, io sono la protagora e Francesca Maffioli, che sarà viola a leggere, è la gorgia. E siamo due filosofe, appunto, sofistiche, che si interrogano sul presente. Gorgia di Letta, sono lustri ormai che il nostro dialogo si è interrotto. La peste che ha invaso il mondo ha sottratto così tanto spazio alla nostra filosofica meditazione, al nostro chiederci per capire. Il tempo ormai trascorre scandito da minacce, angosce, incomprensibili numeri che volano nell'aere e determinano il limitarsi o l'espandersi della nostra libertà. Non so tu, gorgia mia, che risiedi nella martoriata lutezza e a cosa credi, come meni i tuoi giorni. Per quanto riguarda me, che vivo ancora sull'italico suolo, questo isolamento a cui siamo soggette acquisce il timore che da sempre io provo dello smarrimento. Da quando ero una puella, io ricordo di aver temuto per me stessa un allontanamento dal mondo, un esilio, che in questi mesi si sta verificando nella realtà. Il logos che governa la nostra società, le ragioni che la guidano, sono adesso più che mai sconosciute e questo ci rende tutte aliene, straniere a noi stesse, alle città in cui viviamo, ai luoghi dove abitano i nostri cari, a quegli spazi un tempo familiari dove abbiamo riso con le amiche filosofe o ci siamo lasciate innamorare. Come cittadina sono vittima di decisioni che non dico debbano essere filosoficamente fondate, ma che vorrei rispettassero quantomeno i dettami della mera logica. Un nostro successore e compatriota, lo storico Polibio, non avrebbe esitazioni a indicare nel nostro sistema un esempio di oclocrazia. Ciò significa che coloro che dovrebbero sviluppare la sapienza hanno fallito. In questo tempo la parola intellettuale è diventata un tabù. Lo studio, la riflessione, il dubbio, soprattutto sono scansati, peggio del virus. Gorgia mia, il momento è grave e richiede azioni grandi. Non è tempo per la nostra filosofia questo, che prevede che ci muoviamo di città in città a diffondere il dubbio, a mostrare la potenza del linguaggio. Ti propongo di anticipare i secoli e diventare epicuree. Il grande filosofo di Samo inviterà a vivere nascosti. E su questo direi che questo virus ci sta agevolando. Poi ci serve un giardino. Dal suo epicuro insegna a non temere gli dèi, il dolore e la morte. E io penso che anche noi possiamo imparare, considerato che ci stiamo abituando a sopportare ogni giorno la paura di perdere il nostro nord, il logorio di questa incertezza, il peso di tale solitudine. Protagora cara, il tempo triste che ci ha separate ha lasciato spazio ad accadimenti gravi, inaspettati o prevedibili, direi, perché alcune e alcuni già li presagivano. Lutezia, come Milano, segue le mosse di chi decide guardando all'urgenza presente, con lo sguardo fisso. Quello che trova la misura nella piaga, senza la lungimiranza di quello che sarà. Gli allarmi seguono le urgenze e le urgenze ai numeri che si rincorrono come le tessere del domino di Ade. In questo pallottoliero impazzito, in cui i numeri rispecchiano la strazione dei corpi, la mancanza degli affetti lontani, è pesante di distanze nuove, di frontiere, che metici impariamo di nuovo a ricostruire. Lucrezio, un giovane scrittore, un latino che nascerà quando noi saremo già a riposare nei campi Elisi, parlerà della peste di Atene. Memore delle letture di Tucilide, troverà proprio nel tuo epicuro ragione della nostra mortalità, del suo naturale compimento. Scaccerà l'idea che i flagelli che ci tormentano siano frutto dell'ira delle idee e degli dèi, in collera con le umane genti. Sarà forse vero che non sono gli Olimpi a essere in collera con noi, sarà pur vero che Artemide e Poseidone non si curano di noi, ma i boschi, i fiumi, le foreste, i mari, che questi ultimi amano e noi abitiamo, quelli sì che sono in collera con noi. Tempi oscuri per la ragione, si dice, quelli delle pandemie. Tempi di ripiegamenti, del vivere nascoste e nascosti. Ebbene, così sia, ma solo se ripiegarsi significa gli origami della carta, che dà vita alle forme e se questo viver nascoste corrisponde al tempo del magese, quel magese di Persefone che si assenta, ma nel presagio di un sicuro ritorno. Ebbene, così sia, se questo tempo è quello in cui si berna e si muta, in cui ci si lascia, modo di progettare il cambiamento, alla pelle del serpente il tempo di staccarsi per mostrare cosa c'è sotto, di nuovo e inatteso, disconosciuto a quelle che eravamo e di familiare a quelle che stiamo diventando. L'immaginazione si arrovella quando gli spazi si fanno stretti e visioni di mondi nuovi covano negli animi nostri proprio quando siamo state troppo tempo al buio e nascoste. Sopportiamo, come dici, ma solo se la sopportazione è il pensiero gemello della visionarietà, quello che di già scorge un nuovo inizio. Io penso che possiamo anche chiudere con questa idea di visionarietà perché sicuramente una cosa che è stata aspirina è stata visionaria ed Erbacce l'ha potuta coltivare. Non so cosa ne pensi. È vero, benissimo. Grazie. Grazie Laura Marzi, grazie di essere stata qui con me e con noi al Vandefam. E adesso mandiamo e facciamo vedere una delle altre rubriche belle, nello specifico un video tratto dal muro della Bicocca di Piera Bosotti. Grazie a tutte e tutti. Grazie a 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 tutti